Sempre in diretta qui su Country Live Web TV, direttamente da la grande festa Country Spitale Bondeno Ferrara. Lui l'avete già visto prima, Stefano DJ, grande uomo, e questo qui in mezzo è sempre un altro Stefano, sempre DJ un po' più basso, ma sono tutti altri DJ! Allora, Stefano Civa in arte estiva, grande, mitico uomo, non solo DJ ma oggi sei qui per fare anche lo stage. Esatto, più tardi dopo la cena iniziamo a mettere i ballerini in pista, faremo un piccolo stage e vediamo cosa si salga fuori. Non sappiamo già che stage è? Tipo uno dei balli, che ne so, di Enerjoy 2017 per dire? Ma ci avevo pensato, magari in tre minuti poi te le metto su, dai, dopo le faccio ballare in tre minuti il ballo di quest'anno di Enerjoy. A me ha detto prima che fanno mazulca di periferia. A noi ci va bene uguale, a loro uguale perché stanno già salendo in macchina e venendo in qua per vedervi. L'importante è che i ballerini si divertano comunque sempre, non è importante. Allora, dimmi su per giù a che livello di serata suonerai, a che punto suonerai, come orario? Io sto a Stefano quando mi dicevi guarda vieni qua, io vengo lì. La domanda che io non ne ho un'idea e loro lo sanno già, vi siete divisi come country standard, country catalan style oppure ognuno mette su quello che vuole? No, diciamo che line dance, catalan style, two step, un po' tutte le scuole presenti oggi lo fanno tutti. Quindi non si tratta solo, è una cosa che stiamo pensando di fare, già dall'anno prossimo, visto che è nata, faccio un passo indietro, è nata una collaborazione stupenda tra queste scuole che prendono le province di Bologna, Mantua, Ferrara, il ciccio qui presente che viene da molto lontano ma c'è sempre per Stefano e io ci sarò sempre per lui. Inizio corsi ci mettiamo d'accordo per fare più o meno gli stessi balli, le stesse coreo, in modo che quando ci si ritrova a questi eventi così grossi non ci sia mai la pista vuota, tutti ballano la stessa cosa e si sta tutti in compagnia perché il principio è ballare tutti per divertirsi, i fenomeni qua no, ok? Esatto, esatto, poi tra l'altro io presento una line dance, non è catalan style stasera. Ma stasera vedremo il famosissimo Seven oppure no? Sì, dopo lo balliamo, è vero. Avete dovuto obbligatoriamente impararlo, lo sapevate già? No, ci è piaciuto tantissimo, come del resto tutte le coreo del buon ciccio. No, del buon Stefano fa sempre della bella roba e non si può non impararlo perché veramente, poi tra l'altro non è difficile, a parte una che poi ne parliamo un attimo dopo, perché c'è gente che gira con lo script sulle braccia, scritto col pennarello. Ma guardi ti dirò, dunque lui collabora con noi, prima era Playa Latina Web TV, Playa Latina il ballo che unisce, adesso è diventato Energio, il ballo che unisce, ti posso assicurare che io e tanti anni ancora non ne ho imparata una, non riesco a memorizzarle. Allora, stasera ti metti in pista con noi e lo provi, è il ballo di quest'anno che abbiamo fatto, dunque se ti metti in pista con noi vedrai che lo riuscirai a fare. Prima o dopo la birra? Ma dipende da te. Secondo me è sempre meglio dopo la birra, magari anche un Jack Daniels. Chiara, aiuto! Intanto voglio ringraziare Stefano per l'ospitalità, mi chiama sempre, a volte sono sempre impegnato, quest'anno sono riuscito a venire, con grande soddisfazione. Allora, il contraccambio perché Stefano sarà con noi all'agreturismo Bacchibù alle 25-26 di agosto, che facciamo una bellissima festa che è il secondo anno che proponiamo, dunque se magari vi capita di venire anche da noi a Fiorentuola, ecco, siete i benvenuti. A piacere, sì. Ci sarò. Invece noi vi aspettiamo il primo di luglio al Villaggio della Salute Più per fare tutti questi balli, perché voi ci sarete ovviamente per il gioio 2017. Allora io lascio il microfono e la pista che stanno già scaltando i tacchi, ma dentro gli stivali con sto caldo, ma come si vive? Ma vuoi sentire? No, va bene così? Ragazzi, venite in qua perché sarà una notte davvero particolare, vi aspettiamo qui a ospitale di Bondeno, Ferrara, dai magici Stefano DJ, Steve DJ, Luca DJ, C-Stri-Stri-Stri-Stri-Stri-Strax DJ! C-Strax, te bisogna che però quella maglietta la fai più grande perché io sono cecata e mi manca anche Mickey West. Vi aspettiamo, grazie, ciao! Grazie!